Musica Alessandra Tord esiste in Pinnada, che in sa dirigenzia CGL e Cisle Will, deva che ero una dobbia su mese, una cosa mai capitata in prudese tant'anno di attività regionale. Si può denarre, schibessi idea di mudare passo, considerando chi Cristian Solini, e si può denarre, che in un'altra dobbia su rappresentante del traballatore, spesi tre ruotas in Chimbannoso, e in uno a dobbio di pian fa vedere le comente parare fronte a se emergenzia Covid. Si può denarre, che in questo traballo si può denarre, che in Sintiri ha il sicuro in Pinnada, tutela di tutti i traballatori, delle azze aree industriali interessate a una procedura di licenziamento collettivo, per usare noti da Sardinia, Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia, SMB, Olmedo, Sittel e Unilever. Per usare parte che non stocca, tra noi adesso ora manca, abbiamo sposto in essere tutte le azioni delle politiche attive necessarie, per garantire che così i canzoni interventi prevedi da esistanziamento, da battere un milione di euro, conforme a questa legge regionale del Cassetto e del Sudo a mezzo e 23. Deche persone sindagate a sequestro del credito ordinare bene il mobiles e immobiles in soperazione della guardia di finanzia e della tenenza di Muravera in sambitù delle azze attività del decontrasto e dell'evasione fiscale. Sono militari che in delega delle autorità giudiziarie del Castello hanno esaminato le attività di una ditta edile, bocando a pizzo l'esistenza delle persone che hanno avattuazioni illizite a sprofettos economicos. Su GIPA temiti uno decreto di sequestro preventivo di prudese scentamizza euro in tre dinare, domos e mezzor, desumere della ditta individuale e di uno tecnico. In prusso il finanziere, sanna a posto su tasequestro creditor di imposta gallo a compensare proprio di 360,5 euro. Sì, ho sventiquattro Sardinia, su primo appuntamento desanno, che in Startup Italia Open Summit organizzavo in collaborazione che in noi e s'azudio della Fondazione di Sardinia abbido in sa manifattura dei castelli di nuovi centri partecipanti e tre mezzi che in bicchenta spessone scollegadasi in su matessi tempi. Su primo premio l'hanno assegnato a Hawaii data di Enrico Ferrara a Startup che ha il obiettivo di rendere esercizità di spursi intelligentese, efficientese e sostenibili e sostenibili che si impreva delle tecnologie ad esercizio moderna in sambito di sinternet of things e delle analisi desordatose. Premia Orfinza Active Label monitoraggio dei produttori deperibili via cloud e Nuragi, soluzione dell'intelligenza artificiale prosa a longevidade. Sa vita in carcere su disaccato de esa guerra su un orto di chi è torra su fronte su social media questo sistema di cui stanno preso gli studenti del liceo classico Giorgio Asproni di Nugoro che hanno partecipato a questa borsa del studio Bacchisio Vloris. Uno premio literario artistico arrivò a 6 e 2 che edizione su liceo Asproni che in subinanziamento del Banco di Sardinia ha intitolato a 6 scrittori autore televisivo nugoresi babbo del giornalista Giovanni Vloris. Sa cerimonia di premiazione deso schimbe menzuse laboraus la navatta a costo manzano in sa biblioteca satta di Nugoro Uwe Vloris ha presentato quando vittessi un nuovo forever uno desordulli bruschi di piampicare in considero di studentese. A sa cerimonia a costano puro vi presente sa professora Pergentina Pedaccini sa muzzere de Bacchisio Vloris che in sorfizzo Daniele Giovanni sa commissionata assegnato su primo premio a Beatrice Loe desa quarta C che ha fatto un umelede usupra su ruolo sempre spruccentrale desas tecnologias a sconsicenze a negativa schiana Satta fa che scostanno puro in castello per i suoi tre anni si infilappare su triathlon mondiale Cras s'appado 20 chimbe de maio desi spiaggia a desu poeto a tammo che sa tappa italiana desa World Triathlon Championship Series una desa gara spruzisettata desu circuito internazionale unu chilometro e mesu de nuoto baranta chilometro de ciclismo e de che de corsa se custano a taesse s'ultima possibilidade prososa atleta spartecipante sor menzur desu mundu deva lanzare puntos importantes prosa qualificazione a sas olimpiader de Parigi annaesse rotosos italianos che anna piccare parte a sa tappa in castello Gianluca Pozzatti Michele Sarzilla Nicola Azzano Alessio Crociani Alice Betto Verena Steinhauser Bianca Seregni e Ilaria Zane si comincia a crasa a sasundi chichin saggara femminile e a borta e die ad aesastrese sa prova maschile chichin saggara